Il brano è già di Vasco Rossi, ha fatto da sottofondo all'arrivo della torta dedicata ad Arido Severi, l'imprenditore fanese che domenica 1 settembre ha celebrato 50 anni di lavoro, circa 300 le persone presenti alla cooperativa Tre Ponti che hanno festeggiato il titolare, il collega, il familiare, l'amico. La serata è iniziata con le testimonianze di chi ha condiviso con lui tutto in parte del percorso personale e professionale, tra bracci, ricordi ed emozioni c'è chi ha letto un pensiero, chi ha consegnato un riconoscimento, chi ha raccontato aneddoti e chi delle diverse collaborazioni, descrivendo Arido come una persona capace, umile, da prendere come esempio di vita. La sua carriera è iniziata nel 1974, quando all'età di 14 anni ha cominciato a lavorare come operaio, per poi passare nel mondo dell'edilizia nel 1980 e seguito un altro ed importante cambio di passo, con l'inaugurazione del Conad Flaminio inviato gli atti. C'erano tanti soci, una bella esperienza, ma anche un notevole investimento, perché quella volta facevo l'operaio, l'anno prima mi sono sposato, quindi non è che navigavi tanto economicamente parlando, quindi con un bel discreto mucchietto di sacrifici abbiamo, con altri, molti miei soci, quella volta c'era la cultura non del dipendente e imprenditore, erano molto sociali le cooperative, quindi questa esperienza e queste energie, e si è aperto questo supermercato, il Conad Flaminio, 8 maggio 1988. Nel 99 poi è stato aperto quello di Sant'Orso e nel 2017 quello di Lucrezia. L'anno successivo Arido è stato nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito del Lavoro. Notevole anche la sua attività in campo sociale e solidale, in particolar modo, verso il portatore di Enrica e in disabilità, tanto da essersi procurato la stima e la riconoscenza della comunità falese presso lui vive. Speriamo di trasmettere quello che è arrivato a me con questa riconoscenza, perché è arrivata che comunque avevo già 42-43 anni di lavoro. Questo riconoscimento quanto è arrivata mi ha emozionato tantissimo, anche perché io ho 50 anni, lo dicono un po' da solo, ho puntato tutto sul mondo del lavoro, a parte la famiglia, grazie a quello che è raccordo, ma il mondo del lavoro per me è tutto. Avere questo riconoscimento è da un lato una responsabilità cercando di trasmettere ai giovani una cosa che è bella, perché oggi il mondo del lavoro è un po' cattivo e non è tutto bello. Ci sono anche delle belle esperienze, i ragazzi che lavorano con noi, secondo me, non tutti, ma ci sono delle belle esperienze. Io ho l'onere di trasmettere che ci sono degli obiettivi, dei traguardi che possono essere raggiunti. Questo riconoscimento per me è stato un grossissimo traguardo e rubo una frase a un mio collega che quel giorno è stato insegnato di questa onorificenza, dicendo Sai perché dopo 40 anni e oltre di lavoro uno comincia a essere stanchino ti fanno un riconoscimento di questo genere, sei felice e contento ma prendi anche una bella ricarica verso il futuro e devo ammettere che è così. Sempre tenace e ininstancabile, Arido continua a collaborare con la cooperativa Tre Ponti di cui è socio dal 1988 e da sostenere le iniziative del nostro territorio. Dal 2022 è editore di Fano TV insieme ad altre otto persone. Cosa hai imparato in questi 50 anni, Arido? Tutto. Ho imparato a vivere. Io spero vivamente di essere rimasto sempre quello. Penso che a parte due o tre persone che hanno gravitato in questo mondo nessuno mi abbia chiamato Severi, anzi forse moltissimi non lo sanno manco che faccio di Severi, mi hanno chiamato solo Arido. Suppongo che sia anche un segno di rapporto, di vicinanza che c'è in questa corte. Cerco di trasmettere ai nostri ragazzi tante piccole cose. Parliamo di tutto. Io con i miei colleghi, con i miei ragazzi parliamo di tutto. Parliamo da problemi familiari, da morosini, morosoni. Parliamo di tutto. Quindi secondo me il lavoro mi ha trasmesso questo, un bagaglio di esperienza e di professionalità che egoisticamente, perché potrei darne di più agli altri, un pochino cerco di trasmettere agli altri, soprattutto ai giovani. Per i prossimi anni che cosa ti auguri? Auguro che la nostra azienda continui a essere quella che è, un'azienda solida, ben inserita nei territori di appartenenza che è Fano e Lucrezia, Cartoceto, perché siamo in queste due zone. Auguro ai miei collaboratori di crescere, perché sono ancora qua, però in futuro mi auguro che i ragazzi mi rendano orgoglioso di quello che, non perché per forza devono fare quello che ho fatto io, diciamo di proseguire questa bella esperienza che secondo me abbiamo.